Io ritengo che avere un ufficio dove denunciare quelli che sono i maltrattamenti per gli animali, ecco, qualcosa che in qualche modo manifesti quella che è la nostra sensibilità verso gli amici a quattro zampe sia un gesto di civiltà ma soprattutto un qualcosa che ecco in questi anni non si può non avere. È attivo da oggi al piano terra del municipio di Mugnano lo sportello del garante dei diritti degli animali. L'idea, fortemente sostenuta dall'assessore Gennaro Totaro, è nata durante le riunioni della Commissione Ambiente. Nasce in commissione con tutti i membri della commissione che hanno appoggiato e sposato subito questa idea perché sapevano che c'era questo tipo di interesse di regalare al territorio una figura che servisse da raccordo tra il comando della polsia municipale, i cittadini e l'amministrazione. Soddisfatto il sindaco Luigi San Nataro che ha sottolineato come l'ufficio sia non solo la prova della sensibilità che l'amministrazione nutre nei confronti degli amici a quattro zampe ma anche una necessità in territori dove spesso manca il rispetto degli animali. C'è stato un episodio recente, dobbiamo dire, anche di avvelenamento di gatti e questa è stata una spinta in più per accelerare su questa cosa. Noi pensiamo che anche gli amici a quattro zampe che ormai fanno parte delle nostre famiglie ecco debbano trovare la giusta tutela. Ad occuparsi dello sportello che sarà aperto tutti i martedì e giovedì pomeriggio per ricevere le segnalazioni dei cittadini, Tina Quentale, nota attivista a difesa degli animali. Ascolteremo, accoglieremo segnalazioni, spiegazioni, daremo consigli. Il nostro scopo è aiutare i cani che abbiamo in canile. Sono circa 25 e vorremmo appunto farli vedere, le persone che abitano a Mugnano, farli conoscere. Avremo qui un book, le loro fotografie, i loro dati, la loro carta d'identità insomma. Chiunque vorrà adottare è il benvenuto. Grazie. 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 Grazie.